Ed ecco un esemplare di proprietario in attesa di ricevere l'affitto dal suo inquilino. Il suo habitat naturale è il divano, dove aspetta tra una telefonata all'avvocato e una all'inquilino. Risparmiati lo stress. L'affitto te lo paghiamo noi per tutta la durata del contratto. Carica la tua casa su soloaffittipay.it e ricevi il pagamento puntuale ogni mese. Soloaffittipay.it. Digitale, facile, sicuro. Grazie a tutti.